La questione dei rifiuti, ieri la Regione ha detto che Luca è una questione del... Rifiuti bisogna lavorare, no non è proprio quello, rifiuti bisogna lavorare e parlare poco, noi lavoriamo ogni giorno perché a Napoli non ci sia nessuna forma di criticità particolare, men che mai nessuna forma di emergenza, quindi bisogna lavorare tutti quanti insieme e non metterla in cacciare, soprattutto chi ha le responsabilità maggiori non le deve scaricare su chi non ha nessuna responsabilità, quindi io su questo lavoro e mi faccio anche carico di cose che dovrebbero fare altri, perché ho talmente a cuore la nostra città, la nostra area metropolitana e fino anche la nostra regione, pur essendo sindaco di Napoli e della città metropolitana, ci faremo carico davvero di tutto, stiamo lavorando in una ottima cooperazione istituzionale con tutti, compreso la Regione Campania, stiamo in piena collaborazione con gli altri sindaci, con la prefettura con cui interloquiamo, è una situazione complicata, difficile, che se si lavora tanto, si lavora bene e si straparla un po' meno e soprattutto non si creano le condizioni per un panico e un allarmismo di cui non ce ne sono le condizioni, credo che riusciremo anche a superare quelle criticità della contingenza che spesso sono dovute anche perché c'è anche chi ha un interesse, perché le cose non si superino, che le criticità diventino qualcosa di peggio e che quindi sappiamo perfettamente che i nemici della città in ogni ambiente sono pronti a giocarsi la sua partita, per questo è una partita molto molto delicata, questo è uno di quei temi in cui non si può assolutamente né scherzare né parlare a vuoto né essere assenti, quindi su questo noi tutto il mese di agosto, ferragosto compreso, staremo sul pezzo per affrontare al meglio la chiusura dell'inceneratore di Acerra e come saprete sarà dal primo di settembre ai primi di ottobre per 35 giorni, quindi la situazione va gestita con capacità, con competenze, con cooperazione, perché sono 70 mila tonnellate di rifiuti che devono essere in qualche modo smaltiti, quindi è una grande sfida e io sono convinto che ci sono tutte le condizioni per vincerla tutte insieme, perché almeno la città di Napoli per quello che è di sua competenza ha la migliore squadra possibile per affrontare questo, ovviamente ci attendiamo che la regione faccia la sua parte ma noi lavoriamo assolutamente perché questo accade.